Io sono Cantagalli Ottello, proprietario e cuoco della trattoria dai gemelli. Io sono Idilio Cantagalli, proprietario e chef del ristorante dai gemelli. Trattoria! 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 Dopo trent'anni di cucina rinomata Idilio, il mio gemello, la vuol ristrutturare Ci è messo in testa di non voler più usare grassi strutto e carne di maiale Ma adesso lui vorrebbe cambiare il mio menù Non posso proprio farlo Me lo impedisce il mio ragù No, no, no Vedo tutti che sono contenti Perché il cibo comporta le menti Allontana fatiche e dolori Perché il cibo comporta anche i cuori Stare assieme ci cambia l'umore A dividere il pane e scherzare A guardarsi negli occhi e brindare A scambiarsi risate di cuore Così si fa Che leggerezza, che grande bontà Così si fa Così si fa Ma che allegria, che felicità Grazie a tutti 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 Grazie a tutti